Mentre registravo, eh, Quadrado ha twittato questo, io mi sento molto bene alla Juventus, in nessun momento ho rifiutato nessuna proposta, perché non c'è stata nessuna trattativa, ho grande rispetto per il mio club e per i miei compagni. Segno che qualcosa tra Quadrado e la Juve c'è stato se non avrebbe mai scritto questo messaggio e vi lascio anche questo tweet di Giovanni Albanese in cui fa il nome di De Paul, inerente al video che abbiamo pubblicato questa mattina, ne parliamo domani magari di De Paul, nome interessante. Secondo video di giornata ragazzi per tornare a parlare ancora una volta della difesa della Juventus, qualche giorno fa avevo creato un contenuto apposito ma oggi si aggiunge un pezzettino, tanto andiamo con ordine, parliamo di tutti quelli che sono gli aspetti legati ai difensori che potrebbero essere della Juventus l'anno prossimo ma che non hanno militato nella Juve in questa stagione e possono essere anche giocatori di proprietà della Juventus che però non erano in prima squadra o giocatori inediti che mai hanno giocato la Juventus e che potrebbero semplicemente arrivare. Partiamo da De Miral perché come ben sappiamo è in dubbio il riscatto da parte dell'Atalanta, Gasperini potrebbe non avere ancora a disposizione l'anno prossimo Meri De Miral che quindi farebbe ritorno semplicemente alla casa madre. C'era un accordo, un diritto di riscatto da parte dell'Atalanta che a quanto pare non verrà esercitato. L'altro giorno sentivo che anche Romeo Agresti diceva che c'è stato qualche problema probabilmente sia tra De Miral e la Juventus all'epoca e anche tra De Miral e l'Atalanta potrebbe esserci stato qualche problema a causa del carattere del difensore turco ex Sassuolo. E quindi ecco che questo andrebbe a spiegare i motivi per cui non andrebbe a finire bene, non andrebbe a esserci un matrimonio definitivo e non arriverebbero dei soldi freschi nelle casse della Juventus. Non so se ricordate un video che ho fatto l'anno scorso che etichettavo come una sorta di brutta notizia. La Juventus ha una nuova strategia societaria e non è cambiata rispetto all'anno scorso. Questa rimane, è così. E quindi se la Juve possiede già un giocatore in un determinato ruolo non va sul mercato per prendere un doppione perché non vede il motivo di spendere soldi quando possiede già un giocatore in quel ruolo. Ecco, pensiamo ora alla difesa della Juventus, a come era strutturata quest'anno a livello di difensori centrali, cioè Chiellini, Bonucci, De Litt e Lugani. Quattro difensori centrali, con De Litt che è stato quello che ha giocato più tempo, con Chiellini che è stato quello con più problemi, ma questo lo sapevamo già di partenza, con un Bonucci in fase calante sotto il punto di vista delle presenze più che delle prestazioni, perché secondo me comunque Bonucci quest'anno ha fatto una buonissima stagione, e con un Rugani che ha giocato molto di più di quanto previsto e che alla fine della fiera probabilmente ha anche superato i suoi limiti. Io non mi aspettavo una stagione così da parte di Rugani. Però se dobbiamo creare una struttura forte, solida e anche a livello di programmazione durevole nel tempo, non possiamo più contare ovviamente su Chiellini, che non sarà un giocatore della Juventus l'anno prossimo, e quindi banalmente il posto di Chiellini verrebbe preso da Miral, seguendo il ragionamento che abbiamo fatto fino adesso, e cioè se ho già un difensore non intervengo sul mercato perché ce l'ho già. Però questo va fuori da una logica di potenziamento della squadra. Intendiamoci, l'addio di Giorgio Chiellini alla Juventus non è roba da poco, così come non l'è stato l'addio di Andrea Barzagli, e se vogliamo anche proprio fare due conti a livello temporale, dopo l'addio di Barzagli abbiamo vinto uno scudetto, e non abbiamo vinto due scudetti nelle tre stagioni successive all'addio di Barzagli, che è ovvio che non è questo il problema, però significa che un calciatore importante come Barzagli, per la storia della Juve non è stato sostituito a dovere, molto probabilmente. E allora vi dico, io mi aspetto un investimento lì di dietro, un grande nome lì in difesa, se era parlato di Koulibaly, come vi ho già detto io ci credo poco sostanzialmente a Koulibaly, anche se diverse fonti continuano a ribadire che no, in realtà è un nome concreto, che lascerà Napoli, che potrebbe essere interessato alla Juve. Secondo me queste sono soltanto chiacchiere, credo che uno come Koulibaly dopo otto anni a Napoli e per quello che ha vissuto con il Napoli, per essersi, anche se vogliamo, fuso con il Napoli, non credo proprio che andrà a fare uno sgarbo di questo tipo alla società, che l'ha lanciato nel calcio ad altissimi livelli, e quindi andrei a mirare altrove, però come vi dicevo rimane un problema, e cioè se io possiedo già De Miral, devo cederlo. Anche perché non credo che, dovessero esserci mai stati problemi con De Miral e la Juventus, si possa poi andare a buttare tutto nel dimenticatoio, e cioè va bene, è successo in passato, li mettiamo da parte, no? Se De Miral ha chiesto l'accessione alla Juve per giocare perché c'erano tanti dei problemi con la società, significa che non è una cosa che si può ricucire effettivamente. Questo spiegherebbe anche l'accessione di De Miral di quest'estate. E non penso proprio che De Miral abbia voglia di rimanere nelle rotazioni con Bonucce ed Elite, dato che è stato uno dei motivi per cui appunto ha lasciato Torino in quest'estate. Attenzione che in quel video là della difesa dimenticavo un piccolo particolare, che piccolo non è, e cioè Gatti, il sorre del Frosinone, classe 98, che ha fatto bene quest'anno in Serie B, che è stato convocato in nazionale e che stasera potrebbe addirittura giocare contro l'Ungheria, è che la Juventus a Genia ha acquistato, insieme a Zakaria Evlaovic, pagato la bellezza di 10 milioni di euro. E solitamente una cifra del genere non viene investita per un giocatore tanto per. Io ribadisco, su Gatti ho un po' di dubbi, nel senso che non ho idea di quanto sia forte, di come sia fatto, di quello che è il suo livello in questo momento. Sarebbe bello vederlo in nazionale, all'esordio, in prima squadra nazionale, magari anche dal primo minuto, in una gara in cui Mancini sta provando tanti profili diversi, anche Gnonto dovrebbe partire titolare dopo l'esordio dell'altra sera. Ecco, mi piacerebbe capire, mi piacerebbe leggere anche le impressioni delle persone in riferimento a un Gatti che va ad alzare il livello medio che ha avuto fino ad oggi, cioè giocare in Serie B. Non so se Gatti sarà pronto per la Juventus prima squadra, non so se un giocatore ha pagato 10 milioni di euro dalla Juve, potrà essere semplicemente una riserva, se potrà essere il quarto, il quinto difensore, probabilmente sì, il quarto potrebbe essere il quinto, non credo, allora in quel caso forse il quinto sarebbe Rugani e Gatti andrebbe a essere il quarto, però come dicevamo prima la Juventus no a questa strategia. Se ha già un difensore, Delit, Borrucci, Rugani, Demiral, Gatti non va ad acquistare un altro difensore e ribadisco, secondo me ce n'è grande bisogno. E allora forse uno potrebbe uscire, se non due. Se non due perché, come vi dicevo, Demiral credo che verrà ceduto, in qualche modo si proverà a piazzarlo da qualche parte, magari dovesse uscire Coulibaly in direzione, non lo so, Barcellona, ma dico un nome a caso, tanto ormai tutti i giocatori sono lì, Lewandowski, Di Maria, Chassi, Cristian, tutti, 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 tutti vanno tutti a Barcellona. E allora magari Coulibaly va al Barcellona, Napoli potrebbe essere interessato a Demiral, potrebbe fare un'offerta intorno ai 20-25 milioni di euro per prenderselo, per accaparrarsi il diritto alle prestazioni sportive, la Juventus non avrebbe probabilmente nulla in contrario, dato che l'anno scorso l'ha dato all'Atalanta, pretendente per la Champions, stesso status, se vogliamo, che in questo momento ha il Napoli. Sono tutte squadre che lottano insieme alla Juventus, l'Inter, il Milan, la Roma, la Lazio, la Fiorentina, per entrare in Champions League. Quindi non penso che la Juve si faccia a particolari problemi, dato che l'anno scorso ha seguito lo stesso tipo di ragionamento. E qui entra in gioco Luca Momblano, che prima in live su Juventibus ha detto queste parole, guardate, me le sono scritte, ve le voglio riportare testuali parole. Intervento della Juventus su Bremer. Ieri mi è arrivata questa voce, stamattina mi è stato confermato, non in maniera perentoria, ma la Juve, consapevole dell'accordo con l'Inter, quindi tra Torino e Inter, che Inter che però deve temporeggiare, è un Cairo molto spazientito dall'Inter, la Juventus quindi avrebbe aperto un dialogo per Bremer. Notizia è arrivata ieri, confermata oggi, sapendo bene che il giocatore vuole l'Inter, che il Torino sa che lo andrà a dare all'Inter, tra l'altro il giocatore avrebbe aver inserito una sorta di clausola all'interno del contratto, che aveva rinnovato qualche mese fa, per non perderlo a zero il Torino, aveva chiesto un rinnovo, con la promessa di poi essere ceduto in questa finestra di mercato, dove voleva bene o male. Allora qua interviene Gatti, perché se vi ricordate, quando la Juventus prende Gatti a gennaio, Gatti era molto vicino a firmare con il Torino, e io già all'epoca dissi, attenzione, non vorrei mai che questa sia stata una mossa di disturbo della Juventus, per andare poi quest'estate a trattare Bremer, e quindi il discorso filerebbe completamente. Allora intanto c'è da sottolineare una cosa, dicevamo prima Gatti il 98, quindi non è nemmeno così giovane se vogliamo, perché ragazzi classe 98 vuol dire che fa 22 anni in questa stagione, Bremer è un classe 97. C'è un anno di differenza tra i due. Quindi attenzione che stiamo parlando di giocatori simili a livello anagrafico, ma con un'esperienza diversa all'interno della Serie A, perché comunque Bremer quest'anno è stato l'MVP per quanto riguarda i difensori del nostro campionato, il giocatore migliore tra i difensori, e ce lo ricordiamo bene, perché si è messo in tasca Vlaovic, se l'era messo in tasca anche quando giocava a Firenze, ha segnato proprio con l'Inter, insomma ha fatto una buonissima partita, una buonissima stagione, 33 partite, 3 gol e un assist, con l'87% di gare giocate dal titolare, l'85% di minuti disputati, e un 9% di partecipazione ai gol del Torino in Serie A. Giocatore che ha giocato sì nella difesa 3, se vogliamo come libro, come centrale della difesa 3, ma che potrebbe benissimo giocare anche nella difesa 4, e io so che qui qualcuno andrà a pensare ad Elite, dicendo, allora cediamo Elite e prendiamo Bremer, Bremer no, perché il discorso che abbiamo fatto prima, fila liscio no, la Juventus dovrà cedere De Miral, e potrebbe inserire Gatti all'interno di questo pacchetto, di questa trattativa, per fare Bremer, Elite, Borucci e Rugani, io Rugani lo lascio ragazzi per un motivo, l'anno prossimo va in scadenza, guadagna tantissimi soldi, e non credo che in questo momento ci siano squadre interessate, ad accapparrarsi con lo stipendio di Rugani, e come dicevamo prima, la Juventus, se ha già un difensore, e non arriva un'offerta convincente, si tiene il giocatore, come è stato esattamente in questa stagione, e la Juventus vorrà tenerselo per portarlo a scadenza, e non dover più pagare questo fisso di ingaggio altissimo, per quello che è un quarto difensore centrale, una roba mai vista in Italia, dato che sono tutti accordi pre-Covid, quando la Juventus era ricca, aveva soldi e poteva fare queste cose, oggi non le può più fare, e quindi la Juve non vede l'ora che scada il contratto Rugani, non vede l'ora che scada il contratto Alexandro, il contratto di Ramsi, il contratto di Rabiot, che sono tutti ingaggi pesanti, che la Juve oggi non si può permettere, e che può permettersi soltanto a giocatori importanti, come Pogba, come De Ligt, come Di Maria, come Vlaovic, come probabilmente andrà a dare a Chiesa, perché a breve mi aspetto un rinnovo di contratto di Chiesa, lo stesso Quadrado, e mi ha imparato ieri, ci sono delle problematiche legate al secondo anno di contratto, al rinnovo, perché lui voleva due anni a più soldi, la Juve voleva dare due anni ma spalmati, ragazzi i soldi rimangono la base di tutto il discorso del calcio, mercato della vita, del lavoro in generale, la gente lavora per guadagnare, e il conto è i soldi che guadagnavo noi comuni mortali, e un conto sono le cifre invece che guadagnano dei professionisti, degli atleti, che ovviamente meritano, perché alla fine se vengono pagati così, è perché ci sono squadre, sponsor disposti a riconoscere queste cifre, se vogliamo, proprio il populismo è uno stipendio immorale, così alto, però ribadisco, il populismo è nulla più, sappiamo come è fatto il mondo del calcio, e i soldi, ancora una volta, muovono anche questo fantastico mondo, attenzione su The Litt, conclusione, ho fatto un articolo, ho scritto un articolo sul numero 10, vi lascio comunque il link qui sotto in descrizione, per andarvelo a leggere, andate a vedere, perché è il mio pensiero, banalmente, su quello che è il discorso legato a Matthijs The Litt, e le sue dichiarazioni di questi giorni. Ragazzi, fatemi sapere se Bremer potrebbe essere un giocatore interessante, secondo me sì, anche perché ribadisco, è MVP della serie A per difensori, quindi significa sicuramente giocatore affidabile, e se secondo voi, potrebbe essere un giocatore che potrebbe effettivamente arrivare alla Juventus, vi dico, per quanto Bremer sia molto vicino all'Inter, penso che sia molto più plausibile Bremer, piuttosto che Coulibaly all'interno della Rosa e la Juventus l'anno prossimo, non tanto per questa specifica trattativa, ma proprio sulla carta.